Il disegno di legge Omnibus è stato approvato in Consiglio regionale con i voti a favore della maggioranza e contrari dell'opposizione. Approvati anche una ventina di emendamenti proposti in gran parte dalla Giunta. Il provvedimento interviene su sanità e welfare, attività estrattive, agricoltura e caccia, attività contrattuale, ambiente e beni culturali, commercio, personale e turismo. Novità anche per il mondo del lavoro. Noi siamo riusciti a trasformare finalmente in legge la possibilità per i comuni piemontesi di premiare nelle opere pubbliche quelle imprese che impiegheranno prevalentemente mano d'opera piemontese. Un risultato concreto a difesa del lavoro. Tra i più significativi emendamenti, quello che trasforma il CSI da ente di diritto pubblico a ente di diritto privato in controllo pubblico e quello che, per favorire le misure di distanziamento sociale in tempi di Covid-19, prevede che i comuni e le gestioni associate concedano gratis fino a ottobre un ampliamento delle superfici demaniali per posizionare Deore e Tavolini. Soddisfatta la maggioranza in consiglio regionale. Siamo convinti della nostra azione amministrativa, la rinventichiamo con forza. Siamo contenti che ci sono in questo collegato delle modifiche, delle sburocratizzazioni, un avvicinamento alla semplificazione. Per Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, è ora di guardare un progetto di più ampio respiro, accedendo ai fondi europei che permettano di sviluppare un'euroregione economica. Dalle cave al commercio, dalla caccia all'agricoltura, abbiamo provato a creare le condizioni per una ripartenza economica, ha invece dichiarato Paolo Ruzzola di Forza Italia. Di ben diverso parere le opposizioni. Questo provvedimento è già nato male, perché conteneva al suo interno una serie di revisioni che non dovevano essere contenute all'interno di un omnibus. Il mio gruppo ha presentato più di 1500 emendamenti, perché quello che abbiamo dovuto fare era salvare il salvabile, ridurre il danno. Raffaele Gallo, Partito Democratico, ha ribadito l'importanza di fare rispettare il ruolo delle opposizioni. Le risposte delle DDL, ha detto, sono in gran parte sbagliate. Per Marco Grimaldi, liberi uguali verdi, dopo un periodo difficile per tutti, siamo stati tenuti settimane in consiglio a parlare di allodole e gioco d'azzardo. Le opposizioni, lavorando in modo unitario, hanno dimostrato che la maggioranza è battibile. Queste lunghe giornate di dibattito sono state un grande esercizio di democrazia, ha affermato il presidente del Consiglio, Stefano Allasia. Il mio auspicio per il futuro è che il confronto continui nel segno del dialogo tra maggioranza e opposizioni.